Ci vorranno ancora 5 o 6 anni per vedere del tutto conclusa la ricostruzione dell'Aquila. Un'ultima china da superare, un colpo di reni, come commenta il titolare dell'ufficio speciale dell'Aquila, Salvatore Provenzano, per riavere finalmente una città senza più cantieri e strade chiuse. Vale per il centro città, così come per le frazioni. A pochi giorni dallo scattare dell'anno decimo dopo il sisma, il bilancio della ricostruzione pone un quesito che va al di là dei puri numeri. Per quella data, il 2024, come sarà il tessuto sociale della città? L'Aquila avrà recuperato la sua forza economica e culturale? Il nostro obiettivo e il lavoro che stiamo facendo, tutti gli sforzi, sono legati a due date. 2021 segnerebbe per noi la fine dell'attività istruttoria di tutte le pratiche che abbiamo in giacenza di quelle che contiamo che arrivino nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Pertanto, se il 2021 finiamo l'attività istruttoria, nel 2022, 2023 e forse anche un appendicio nel 2024, quei cantieri che verranno generati dalle ultime pratiche dovrebbero concludere la propria attività. Nel 2024 saranno passati 15 anni dal terremoto che il 6 aprile del 2009 ha distrutto l'anima profonda di un intero territorio. Se mi limito a fare il tecnico, dico che 15 anni per ricostruire una città non è spaventoso come tempo. Se invece dovessi fare un minimo di analisi, forse sociologica, antropologica, allora capisco che se uno è privato per 15 anni dei propri luoghi è un tempo lungo. Proviamo a fare un ragionamento provando a distinguere le frazioni che hanno avuto i danni maggiori da quelli che sono state colpite in maniera non così importante e allora i numeri non sono negativissimi. Però, mi ripeto, le frazioni che hanno subito gravi danni di 4 e di 5, la situazione non è gravissima. Ma purtroppo abbiamo un ritardo sulle frazioni che hanno subito danni lievi, Sassa, mi viene in mente, oppure altre frazioni altrettanto importanti, per le quali siamo in ritardo e l'ufficio nei prossimi mesi concentrerà l'attività su queste frazioni. Il ritardo resta invece sulle frazioni che hanno subito danni lievi come Sassa. Intanto, degli oltre 5 miliardi di euro stanziati con la finanziaria 2015, secondo l'aggiornamento al mese di aprile fornito dalla struttura di missione, guidata a Palazzo Chigi da Raniero Fabrizi, restano da assegnare ancora 1 miliardo e 700 milioni di euro. Un destino, quello della città, legato a una rinascita che va al di là della pura ricostruzione urbanistica.